Il trattamento con probiotici può ridurre sia l'incidenza che la gravità della diarrea associata all'uso degli antibiotici. In particolare una meta-analisi suggerisce di assumere tempestivamente i fermenti lattici vivi quando si è sotto terapia antibiotica poiché queste sostanze possono prevenire la comparsa della diarrea. Dal punto di vista dell'efficacia clinica sembra che negli adulti sia più efficace il ceppo Saccharomyces Boulardi mentre nei bambini sia più efficace il ceppo Lactobacillus Rhamnosus GG. Sebbene gli studi clinici dimostrino risultati interessanti quando si assumono tempestivamente i fermenti lattici vivi durante una terapia antibiotica bisogna ricordare che questi batteri buoni possono indurre fenomeni di resistenza batterica. In particolare possono acquisire resistenza ad un determinato tipo di antibiotico come per esempio la moxicilina e successivamente trasferire questa resistenza ad altri batteri patogeni attraverso il trasferimento genico. Purtroppo ad oggi troppe persone sottovalutano il rischio di resistenza antibiotica da parte dei fermenti lattici quindi il mio consiglio è di assumere i fermenti lattici vivi solo se strettamente necessario durante la terapia antibiotica e preferibilmente utilizzare queste sostanze solo dopo aver completato la terapia. Anche nella diarrea del viaggiatore l'utilizzo di probiotici può essere di aiuto per prevenirne la comparsa o ridurne i sintomi. In questo caso le specie più efficaci sono il Saccharomyces baulardi oppure una miscela a base di Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium bifidum. Spero che questo video vi sia piaciuto se avete delle domande o delle curiosità potete farmi nei commenti oppure scrivermi a infochiocciola voxalcorporation.com come sempre vi invito a iscrivervi al canale condividere i contenuti e lasciare qualche like e noi ci vediamo al prossimo video.